Ciao lettrice e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi, tanto per non farmi mancare niente, sto per girare un video, che voi vedrete che penso sia una dei più difficili, almeno la recensione più difficile che io abbia mai fatto nella mia vita devo dire che questa recensione avrà 3 milioni di premesse perché penso che sia non solo necessaria ma proprio doveroso e quindi, non so, sarà un casino, sarà difficile, io spero di comunque fare un discorso sensato partiamo da un presupposto, ero sempre stata molto incuriosita da leggere un fantasy che secondo me è abbastanza fondamentale per chi si occupa di questo genere, appassionato di questo genere che però io non avevo mai letto, un po' perché mi ricordavo di alcune questioni un po' grigie che insomma non mi piacevano tantissimo, insomma, e l'ho sempre rimandato, rimandato, rimandato alla fine, per caso, abbiamo trovato una copia in una bancarella a un euro, tipo un euro e cinquanta una cosa proprio ridicola, te lo tiravano dietro di questo libro e chiaramente io l'ho preso senza pensarci due volte anche perché era veramente un po' di tempo che mi dicevo forse il caso di approfondire o no ho iniziato a leggerlo, che dire? è un libro la cui lettura mi ha portato via tre settimane e io non dedicavo tre settimane a un libro, penso, da una vita nel senso che sono diventata molto veloce nella lettura i libri molto, molto consistenti, molto lunghi tendenzialmente o li evito per una questione anche di economia della lettura io leggo solo in determinati momenti ho sempre paura che portandomela avanti da troppo tempo io dimentichi qualcosa morale della favola niente, l'ho iniziato e è diventata la mia ossessione è diventato il libro che ha... però nella stessa occasione ho un po' approfondito la questione dell'autrice e questo è ciò che mi porta a fare questa doverosissima premessa in questo video mi trovo, e ve lo dico con grandissima sincerità in... mi trovo davvero in difficoltà a parlarvi di questo libro perché ciò che ha fatto Marion Zimmer Bradley l'autrice delle nebbie di Avalon è qualcosa che personalmente mi fa talmente stare male mi fa venire talmente la nausea che annulla tutto da un lato e non riesco a concepire come una persona che sia stata in grado di fare quello che ha fatto abbia poi scritto l'opera che ha scritto brevemente Marion Zimmer Bradley era da tempo conosciuta come un'autrice che ha avuto un periodo abbastanza buio in quanto era stata accusata di avere coperto il marito che a quanto pare era un pedofilo perché diciamo lei era stata accusata di essersi girata dall'altra parte fondamentalmente ma nel 2014 la figlia Moira grazie ad un articolo su un blog ovviamente tutte queste info di approfondimento ve le linko giù nell'info box in modo che possiate approfondire tutte queste questioni insomma la figlia Moira dice che se il padre era un pedofilo e quindi era ovviamente spregevole la madre era persino peggio e anzi da quando aveva tre anni fino a quando ne ha avuti dodici ha abusato di lei l'ha violentata l'ha aggredita picchiata eccetera una serie di violenze che veramente solo a nominarle mi fanno stare male se un po' avete imparato a conoscermi guardando un po' dei miei video avrete forse capito una cosa io non amo supportare le persone che non stimo che non stimo perché sono accusate o sono state condannate per determinate cose che per me non sono accettabili anche perché mi occupo di determinate tematiche ci tengo a combattere per determinate tematiche annullarle e supportare fare finta di niente per me è una cosa che non mi fa stare bene con me stessa se poi voi avete tutt'altra visione per l'amore del cielo io non giudico questo per come sono fatta io è qualcosa che non mi fa stare bene con me stessa e quindi quando ho scoperto che la vicenda era persino peggio di quel poco che io sapevo sono entrata in una grande crisi perché è vero che non sempre l'opera e l'autore vanno un po' mescolati vanno tenuti separati in certi casi però giuro che ho passato una settimana a chiedermi ma come può essere che una persona che ha fatto queste cose abbia scritto questo libro cioè sono due cose che secondo me non sono possibili da vedere insieme perché come una persona mi ha fatto vedere determinate cose determinate tematiche esplorate nella sua opera che io ve lo giuro è la lettura più politica più interessante che più mi ha parlato negli ultimi anni e da un lato fare quello che ha fatto per me è un qualcosa che continuo a chiedermi e continuo a non spiegarmi quindi io ci tenevo a fare questa doverosa premessa perché quello che è successo per me è inaccettabile non è perdonabile in alcun modo e capisco anche che Moira la figlia di Marion Zimmer Bradley abbia atteso così tanto prima di denunciare ovviamente questa cosa anzi addirittura più di 15 anni dopo la morte della madre perché ha sempre pensato che quello che ha fatto la madre per le donne o comunque per i suoi lettori e le sue lettrici fosse qualcosa che automaticamente sminuiva o metteva in secondo piano quello che ha fatto a lei perché aveva fatto così tanto bene ai suoi lettori che la sua storia forse era meno importante a confronto e si sarebbe sentito in colpa nel nuocere o confondere o addirittura traumatizzare chi invece si era ritrovato rispecchiato nella sua opera vi dico banalmente io sono in estrema difficoltà perché parlarvi come vi parlerò dopo di questo libro mi mette davvero cioè non so come dirlo l'altro ma mi mette in difficoltà perché se penso a chi l'ha scritto e come abbia potuto scriverlo lei non mi piace non mi piace supportare queste cose personalmente io la vedo così la questione fatto questa super premessa ora vi parlo delle nebbie di Avalon e dicendovi anche un'altra cosa l'editore americano non tutti l'editore americano e i collaboratori di Marion Zimmer Bradley una volta scoperta questa storia hanno deciso di devolvere i diritti d'autore dell'intero libro e di opere con le quali hanno collaborato insieme a Marion totalmente e per sempre all'associazione per le vittime di violenza sessuale americana che è la più grande e aiuta e sostiene le vittime non è così ovunque ovviamente non in Europa ad esempio non in Italia in Italia appena è stato ristampato verrà ristampato a breve la mia lettura di questo libro è stata molto casuale molto illuminante e soprattutto in questa seconda fase dell'anno dove io era un po' demoralizzata in realtà dalle mie letture perché ho letto tante cose mediocri nulla che mi esaltasse cioè alcune cose molto belle in realtà che stavo leggendo in contemporanea con questo libro però nulla che mi avesse tirato su poi è arrivato Avalon e è stata una botta ora io passerò a farvi la recensione spero che teniate conto di quello che vi ho detto fino ad ora davvero sono in difficoltà però da un lato sto cercando di dividere quella che è l'opera perché quella che ho appena letto è qualcosa che mi ha davvero molto parlato e dall'altro l'autrice è quello che ha fatto che per me è qualcosa che non mi sentirò mai né di difenderne di supportare qualcosa di orribile e quindi insomma sarà confuso se volete farmi le pulci fatemele mi dispiace non so cioè avete ragione cioè da un lato mi pare di parlare cioè sto per parlarvi di un libro che per me è importantissimo mi fa un po' schifo parlarvene per questioni dell'autore detto ciò procediamo io ora vi parlo delle nebbie di Avalon questo libro che in realtà è una saga è un nuovo ciclo è una saga che è composta da tantissimi volumi che in realtà da quello che ho capito andranno anche in ordine a retrocedere a livello di linea temporale perché arriveranno fino alle origini di Avalon questo in realtà però è quello che noi potremmo definire un retelling del ciclo arturiano ovvero della saga di Re Artù e dei suoi cavalieri della tavola rotonda questa però riscrittura e questa nuova visione del ciclo arturiano parte da un presupposto molto diverso da quello originale nel libro originale noi seguivamo ovviamente Artù i suoi cavalieri e le loro geste eroiche in questo la prospettiva viene ribaltata e invece che seguire gli eroi ovvero i cavalieri seguiamo il punto di vista delle donne delle donne che hanno composto questa storia e soprattutto delle donne di Avalon Avalon è questo territorio sospeso che viene nascosto proprio da queste nebbie che solo e unicamente le sacerdotesse possono aprire in modo da poter vedere l'accesso ad Avalon che simboleggia il culto della dea il culto della terra il culto pagano era ovviamente il culto delle terre britanniche prima dell'avvento del cristianesimo infatti noi seguiamo le storie di Morgana Morgos Viviana Ginevra e tante altre insieme a loro potremmo dire perché in questa visione noi proviamo un po' a ribaltare tutto quello che ci è stato raccontato vedendolo da un'altra ottica infatti se Morgana è stata tradizionalmente dipinta come una strega malvagia noi scopriamo che è qualcosa di più è un po' tutta questa storia in realtà è una descrizione di come l'avvento del cristianesimo in una terra pagana abbia da un lato trasformato radicalmente la società ma anche i ruoli di genere ma e soprattutto abbia determinato dei cambiamenti così grossi e così in breve termine da sconvolgere totalmente tutta la società del tempo tutta la società arturiana infatti premessa questo che forse viene sempre presentato solo come il ciclo arturiano dalla parte delle donne un po' la chiave femminista della saga di Re Artù in realtà secondo me le donne sicuramente sono una parte integrante fondamentale di questo volume ma il vero perno centrale di tutta questa storia della riscrittura delle vicende di Re Artù è la religione come a livello culturale economico e anche sociologico la religione cristiana abbia colonizzato i territori inglesi demonizzando ed eliminando cancellando la religione pagana per sostituirsi ad essa e sostituire i vecchi valori con quelli portati dalla cristianità invece Avolon che rappresenta questo culto della dea che è legato alla terra ai cicli naturali e proprio rende doveroso il legame con la natura però infatti questo territorio che è isolato e staccato dal mondo terreno diventa un po' un simbolo di un salto di fede di un qualcosa che solo i veri credenti solo coloro che sono devoti alla dea potranno mai vedere e infatti Avalon appena il cristianesimo giunge in Britannia va in crisi inizia a non essere più accessibile come una volta secondo me questo non è un libro scritto solo per le donne perché ovviamente anche se ripeto le donne sono una parte fondamentale di questo racconto in realtà sfrutta il ciclo arturiano quindi le basi che erano state delineate dal ciclo di Re Artù per trasformarlo invece in un'opera che ha a che fare con la questione politica e la questione religiosa e di come le donne subiscano una profonda trasformazione nella società che sta cambiando e ha deciso che se prima erano figure al pari degli uomini che avevano gli stessi diritti più o meno le donne combattevano ad esempio nella società precristiana in Britannia erano parte attiva anche del governo eccetera erano coinvolte al pari degli uomini e anzi dovevano dimostrare di essere valorose tanto quanto loro sempre non avevano qualcosa che le tenesse da parte invece appena il cristianesimo sopraggiunge demonizza le donne e le rende schiave del loro essere colpevoli del peccato originale e quindi venuta al mondo già dalla nascita con la colpa addosso e che quindi potevano essere relegate solo a determinati ruoli e che non potevano partecipare attivamente alla società ma dovevano essere solo prima figlie poi mogli e madri e invece la cultura pagana che noi vediamo aveva dei valori decisamente diversi innanzitutto si venerava una dea quindi la dea la madre terra insomma è così che viene definito e c'è un contatto fortissimo e molto autentico con la natura con la terra e con il suolo si ha un rispetto anche di ciò che si attorno e si accetta quello che succede da un lato però ovviamente si cerca sempre di avere la benevolenza della dea in quello che si fa e in questo tipo di società le donne scelgono e hanno la possibilità ovviamente di partecipare attivamente alla società all'interno di Le Nebbie e Diavolo noi seguiamo tantissime figure Morgana che ha un percorso che sicuramente potrebbe essere il simbolo della difesa strenua del culto pagano del culto della dea e cerca di farlo sopravvivere a tutti i costi perché nella religione cristiana vede qualcosa di sterile e di freddo che non rispetta né le donne né la terra stessa e i suoi cicli questo per lei diventa inaccettabile perché tutte le convinzioni tutte le credenze tutto insomma il sistema di valori che avevano i popoli pre cristiani si sostituiscono vengono annientati vengono cancellati e bollati come sbagliati da questo sopravvento della religione cristiana poi seguiamo ovviamente quello che è venuto prima attorno a lei seguiamo i grain che è la madre seguiamo Morgose che è una delle zie la zia più furba la zia quella meschina e Viviana che è la grande sarcerdotessa di Avalon infatti Morgana discende da queste questa famiglia queste tre sorelle che sono nate e appartengono alla stirpe di Avalon quindi vengono considerate la stirpe reale insomma la stirpe più potente discendente dalla dea stessa e che ovviamente conservano con loro il culto questo culto della dea questo potere della dea poi seguiamo però ovviamente appena arriva anche Ginevra che sarà una figura molto contrapposta alle altre ma e non sarà l'unica figura un po' diciamo ambigua o comunque quasi nemica di tutta questa storia beh Ginevra merda lo possiamo dire però vero sì e ovviamente noi assistiamo perché non è spoiler nel senso che lo sappiamo come va a finire la storia di Rartun noi assistiamo però in questo caso alla grande sconfitta di Morgana che fino all'ultimo cerca di salvaguardare il culto della dea e queste credenze per sopravvivere però dovrà soccombere perché la cristianità si sostituirà a tutto ciò che c'era prima e cercherà di cancellare ammientare o rendere malvagio far vedere agli occhi di tutti come malvagio ciò che non corrisponde alla propria cultura per me è stato davvero un viaggio molto intenso molto strano anche perché c'è stata un'intenzione che probabilmente non avevo mai visto in tanti altri romanzi in tanti altri racconti soprattutto pensando che questo libro è stato pubblicato nel 1983 e io lì ho iniziato a chiedermi cosa è andato storto dopo cioè perché tutto il fantasy soprattutto quello per ragazzi non ha semplicemente o copiato o cercato di migliorare questa cosa ma è notevolmente peggiorato cioè per me è la domanda che mi facevo più spesso durante la lettura e per me è stato davvero un libro molto illuminante perché stilisticamente sarà qualcosa di un po' strano perché qua diciamo che tutti i cavalieri vengono un po' ignorati entrano a far parte del gioco solo nel momento in cui incidono sulle vite delle donne che è esattamente quello che la letteratura ha fatto per tutta la letteratura tranne gli ultimi anni più o meno adesso ovviamente esagero è comunque una prospettiva che fa molto strano cioè gli uomini fanno quello che tradizionalmente nei romanzi hanno sempre fatto le donne ovvero sono solo accessori o sono solo funzionali alla loro storia non hanno una vera propria storyline e quindi anche stilisticamente viene accompagnato da uno stile molto tradizionale perché chiaramente si deve rifare a ciò che era l'opera di base ovviamente non è scritta nello stesso linguaggio però ha questo alone molto mistico molto sacro molto epico e questa cosa a me è piaciuta molto in alcuni punti purtroppo cala un pochino e risulta un po' pesante diventa un po' drammone a volte ma drammone senza che abbia dei risvolti che sono funzionali alla storia semplicemente un po' per sottolineare il pathos e la drammaticità tutto è perduto però a parte queste piccole cadute secondo me l'opera viene delineata con un'intelligenza sicuramente pazzesca e sicuramente che spero che chiunque scriva libri ora ne abbia capito qualcosa da questo punto di vista io non riesco ad accettare che ci siano un sacco di scrittrici young adult che non abbiano idea di come si scrive un libro come questo cioè per me è stato veramente anche questo un po' una scoperta in più io mi sono innamorata io qua calo le braghe mi sono innamorata di Morgana cioè Morgana è un personaggio che io ho amato che io ho apprezzato tantissimo primo perché lei è sempre stata una figura dipinta come una strega come qualcuno di malvagio che ha plagiato la mente di Artù per i propri fini ma qui ovviamente noi ne scopriamo tutta un'altra prospettiva Morgana innanzitutto non è una donna che si conforma ai valori che stanno sopraggiungendo in Inghilterra è una donna che non si conforma alla visione cristiana della donna e che i preti dirò preti perché è così che vengono chiamati nel libro si parla di preti i preti fanno così i preti dicono così per farvi capire non è perché tutti i preti del mondo dicono così ok i preti in questo caso vogliono instillare nelle figure femminili il senso di colpa per assoggettarli ovviamente alla propria visione del mondo e Morgana rifiuta Morgana ricaccia tutta questa nuova cosa perché lei è cresciuta in una società invece molto più paritaria dove addirittura lei ha un ruolo molto potente un ruolo di rilievo estremo perché lei è una sacerdotessa di Avalon lei diventa una sacerdotessa di Avalon lei ha potere e lei è una figura quasi sacra che tutti rispettano e anzi tutti ammirano e la sua fierezza la sua capacità la sua aura e ovviamente la sua autorità non vengono accettate in nessun modo dai preti che ovviamente la tacciono di essere una strega di essere malvagia e di tramare contro chiunque quando in realtà l'unica trama che ha Morgana è quella contro il cristianesimo anzi lei è per la libertà di culto e infatti come tutte le figure femminili emancipate viene bollata come strega e questo sarà argomento di un video che spero arrivi presto sul canale perché da montare un macello vabbè comunque sulla figura della strega comunque Morgana dall'altro mi è piaciuta tanto perché è un personaggio molto sfaccettato non è un personaggio che è solo sacro potente imbattibile così è un personaggio di cui vediamo gli alti e i bassi il meglio e il peggio cioè è molto a 360 gradi questa cosa per me è stata pazzesca perché è reso benissimo Morgana infatti affronta anche un conflitto interno all'interno del libro perché se da un lato è la sacerdotessa di Avalon e difende il culto della dea dall'altro però vive una profonda crisi per tutto il libro vive una profonda crisi per gran parte del libro perché è in conflitto anche con lo stesso culto della dea si sente tradita si sente usata si sente incompresa in quello che ha dovuto sopportare e forse che tutto quello che lei ha subito non vale la pena per quello che è il piano della dea eppure appena si distacca dalla dea scopre di sentirsi vuota di sentirsi come se le mancasse una parte di se stessa perché è come se si distaccasse dal legame con la terra stessa io l'ho amata fondamentalmente tanto perché è uno di quei personaggi che sono resi benissimo all'interno del libro è fortissima e sacra ha quest'aura divina però dall'altro è anche molto fragile è molto debole vediamo i suoi momenti di difficoltà alterniamo anche proprio tutto quello che le passa per la testa a volte è qualcosa che appartiene magari anche a noi quando ci sentiamo nei momenti molto deboli o ci sentiamo come se non fossimo mai abbastanza eppure lei vive entrambe le emozioni lei riesce a rendere sia ciò che è altissimo ciò che la rende forte ciò che la rende una figura inattaccabile a ciò che invece la rende un po' più debole la rende un po' più fragile e questa cosa mi è piaciuta molto cioè vediamo sia i momenti di splendore che quelli bui ed è così che si scrive un personaggio perché non tutte le donne forti lei è una donna fortissima ok le donne forti non sono donne forti perché assumono dei modelli maschili cioè quelli dove ti imponi con la forza con la violenza in modo tradizionale ovviamente non prendetela come così è un uomo forte assolutamente però quando vengono descritte donne forti il ruolo della strong female character spesso è reso in questo modo e per me è una vergogna che sia così Morgana invece ha dentro di sé tantissime caratteristiche femminili magari più tradizionali ma anche una grandissima autorevolezza che non impone però con modelli maschili quindi magari con aggressività e con celodurismo la sua aura viene percepita dalla sua fierezza dal suo modo di fare dal suo modo di essere sempre qualcuno di affidabile per certi compiti in fondo tutti si rivolgono a lei anche se è la strega e lei si contrappone a Ginevra una figura come Ginevra Ginevra merda scusatemi ragazzi io la odio cioè è insopportabile però è giustissimo la sua posizione dentro il libro Ginevra è un personaggio che anche essa è resa molto bene le spaccheresti il cranio in ogni angolo che trovi in casa ma questo non toglie che sia un personaggio fatto bene che si contrappone a Morgana sia anche come figura femminile che accetta di diventare remissiva accetta di essere sottomessa alla figura maschile però da un lato Ginevra è sia arrabbiata con Morgana perché la disprezza non accetta che lei sia invece un'autorità che ha così tanto potere mentre lei pensa che tutte le donne dovrebbero essere invece timorose di Dio assoggettate umili e che debbano ovviamente conformarsi all'idea cristiana di femminilità però da un lato Ginevra è sempre in conflitto anche con se stesse con le sue emozioni da un lato disprezza Morgana ma dall'altro ne è assolutamente affascinata perché lei può fare cose che non si sente mai in grado di fare e c'è una sorta di gelosia fortissima nei suoi confronti data proprio da queste due emozioni contrastanti perché infatti Ginevra da un lato rinfaccia sempre ad Artù con chi può che Morgana si permette sempre di fare cose inaccettabili però come anche a dire un po' vorrei farle anch'io ma non posso perché sono una brava cristiana e tra le altre cose ovviamente tra le tantissime allusioni di Ginevra Ginevra vive anche una sorta di conflitto perché si sente sempre un po' sminuita da questo rapporto molto ambiguo che ha lei con Artù perché lei è ovviamente innamorata di Lancillotto ma è stata promessa e dall'altro una donna cristiana non potrebbe mai fare non potrebbe mai essere un'adulta però vede allo stesso tempo in questa sua ambiguità questo suo conflitto che ovviamente lei attribuisce alla perdita dei valori che semplicemente si è innamorata di un'altra persona ma è costretta ad averne sposato un'altra che nei suoi confronti in realtà è estremamente attento e premuroso e la ama come poche cose al mondo tanto che la seconda praticamente in tutte sarà quello che porterà effettivamente alla rovina del regno pur di accontentare Ginevra Artù compirà delle scelte che sono ovviamente poco comprensibili anche in un'ottica di un regnante di un politico e in più rinfacerà sempre ad Artù una grossa ambiguità nel rapporto con l'ancillotto perché se da un lato noi vediamo sempre magari la parte di Ginevra innamorata di l'ancillotto e l'ancillotto innamorato di Ginevra che però non può assolutamente tradire la persona nel quale ha riposto tutta la sua vita e tutto il suo onore dall'altro allude spesso a questo rapporto ambiguo che potrebbero avere i due come se l'ancillotto fosse non solo amico fedele di Artù ma che in fondo ne fosse tanto innamorato e viceversa è come se questo diventasse una sorta di triangolo di ambiguità e di sentimenti conflittuali che si percepiscono e questo l'ho trovato un punto molto sottile molto poco percepibile probabilmente ma che secondo me è molto potente perché spiega come dentro l'anima umano vivano e convivano dei sentimenti totalmente conflittuali che neanche noi riusciamo a razionalizzare del tutto comunque magari spesso rifiutiamo e releghiamo in un angolo eccetera però ho sentito tutti questi sentimenti molto autentici e la cosa che ho trovato brillante però io vi dico quando leggo queste cose sembra una cosa molto pesante in realtà molto fluida all'interno della narrazione però io sono atea dichiaratamente e se c'è un po' da far vedere le problematiche della religione e sono sempre molto carica che ciò avvenga soprattutto quando avviene con questa brillantezza questa intelligenza qua c'è proprio una rappresentazione di come una cultura sovrassi l'altra perché è più forte perché è più potente eccetera ma che non sempre ovviamente corrisponde a un miglioramento per le condizioni sociali e soprattutto la figura della donna è il punto proprio più critico di questa sostituzione di cultura e sottolinea come in Avalon invece le donne non hanno mai paura di esprimere la propria opinione di come cerchino di essere giuste cerchino di essere obiettive in quello che fanno ma che non siano relegate ai ruoli che invece ora sembrano venire imposti loro dall'esterno andrò avanti perché ora mi sta venendo in mente tutto altra cosa assolutamente interessante è che l'ereditarietà che noi traduzionalmente vediamo sposanti perché i nostri cognomi sono i nomi dei nostri padri quindi noi vediamo un'ereditarietà che passa da uomo a uomo invece in questo caso l'ereditarietà passa dalle donne infatti Morgana è la descendente di Grey e per questo è importante perché nel suo sangue scorre sangue di Avalon e in generale la figura delle donne anche rispetto a quelle figure un po' più conflittuali non viene sempre mostrata come migliore di altri ma semplicemente portatrice di una femminilità un'idea di femminilità molto diversa che ovviamente è fuori dagli schemi e non viene accettata dalla cultura che sta sopraggiungendo e se la prospettiva viene ovviamente ribaltata nei confronti della trama diciamo che di geste eroiche qua ne vedrete poche almeno nel senso tradizionale del termine perché diciamo che sono decisamente molto ridimensionate mentre è molto muscolare tutto il ciclo arturiano tutto è gesto eroiche spade bla bla un po' una gara a chi ce l'ha più lungo in questo caso di tutto ciò non ce ne frega assolutamente nulla e questa cosa per me è stata proprio la stoccata finale diciamo che mi è piaciuto vedere tantissimo come in questo romanzo le donne abbiano potere e abbiano nelle loro mani le sorti e il destino del mondo e che non stiano aspettando che lo facciano agli uomini anche se devo dire che a volte soprattutto in certi casi mi è sembrato che comunque il ruolo della donna dovesse diventare quello un po' di una vestale e dedita alle cure di casa infatti io questo vi devo dire una cosa che sarà molto impopolare io non lo trovo un libro così femminista lo trovo un libro femminile da un lato con una prospettiva femminile molto forte ma per alcuni versi insomma devo dire che soprattutto in alcuni casi ho trovato delle dinamiche che mi hanno un po' lasciata perplessa almeno per il messaggio per quello che vuole essere il messaggio finale di tutta l'opera diciamo che le donne hanno spesso dei ruoli da crocerossine che vanno sempre in soccorso si occupano dei figli però poi alla fine diventano anche il bastone che sorregge i loro uomini eccetera non sempre non ad esempio nel caso di Morgana fino a un certo punto spoiler diciamo che sembra sempre che le donne per essere preparate ai loro emuli maschi debbano sempre fare il doppio lavoro cioè la vera parità non è data dal fatto che effettivamente si considerino l'una e l'altro come due figure complementari ma che in realtà la donna debba fare il doppio della fatica e comunque tenere per sé il lavoro di cura domestica di cura della casa e della famiglia e in più fare anche il doppio sforzo per essere diciamo parificata ai colleghi maschi in questo caso e questo io non l'ho trovato un messaggio perfetto da dare cioè mi è piaciuto vedere come si sottolinei legato proprio alla figura della donna questo legame mistico questa sorta di figura sacra e che tutto questo percorso conflittuale porta da una situazione di parità o comunque quello che poteva sembrare parità o essere la cosa più vicina alla parità in tempi antichi ha una figura che l'abbandona totalmente e infatti probabilmente è così forte questo libro soprattutto in queste vesti in questo schema che è totalmente tradizionale perché noi siamo sempre abituati a vedere tutte queste gesta sempre raccontate attraverso occhi maschili mentre in questo caso noi assistiamo a una prospettiva decisamente diversa che probabilmente dà risalto a tante altre cose che non sono le battaglie e gli scontri o almeno non solo quello però vi devo dire anche che cosa non mi è piaciuto che un po' ve l'ho accennato prima perché secondo me infatti questo libro risente un po' di quel tipo di rappresentazione a volte non sempre a volte dove per far vedere come la figura femminile sia in fondo quella buona in tutto questo contesto o quella che ha le redini della storia spesso ricade invece nel ruolo che si sostituisce all'uomo cioè per far vedere quanto una donna può fare determinate cose quanto è brava eccetera eccetera gli uomini vengono un po' relegati in un angolo e hanno un po' una personalità molto lieve cioè diciamo che a volte per dare così spazio per esaltare queste figure femminili nella loro complessità e tutto viene talmente sacrificato il ruolo maschile è che secondo me è necessario per capire un po' l'andamento della storia in alcuni punti o comunque per capire il legame con determinate figure e viene un po' accantonato e io lì un po' ho visto che la Bradley ha fatto esattamente il contrario di quello che era stato fatto col ciclo arturiano però ovviamente ottenendo un risultato abbastanza simile ovviamente non è paragonabile come cosa però a volte scade un po' in questa dinamica del sostituiamo tutto completamente e secondo me per alcuni personaggi come Artù e l'Ancillot è necessario un approfondimento è necessario entrare nella loro psicologia per capire cosa fanno perché Artù che è un personaggio qua in realtà viene rappresentato come un uomo molto buono molto generoso con le persone che ama e che non riesce a essere del tutto obiettivo con loro è anche però un uomo molto giusto nel suo modo di governare nel cercare di ottenere la pace che però è sempre in balia di ciò che gli sta un po' succedendo attorno io non riuscivo a capire fino in fondo che cosa passasse per la testa di Artù e secondo me era fondamentale in determinati punti perché sembrava un po' un fantoccio non avendo approfondito quella che è la sua storia e quello che è la sua psicologia idem Lancillotto di Lancillotto ovviamente ne sentiamo un po' meno il bisogno perché tanto ha a che fare con Ginevra e Ginevra a merda però avrei voluto saperne un po' di più del suo punto di vista cioè quello che ha provato lui nel corso della storia per capire come si andavano a incastrare tutti gli eventi ecco detta in maniera vaga e come vi dicevo prima un po' anche lo stile che a volte non è sempre costante e abbassa un pochino il ritmo della narrazione e anche il valore che hanno alcuni passaggi rispetto ad altri questi sono secondo me i due tre errori fondamentali di tutta la sagra la sagra adesso è diventata una sagra di tutta la saga almeno la saga io ho letto un libro quindi non posso dirvi altro come dire questo è un libro che mi ha parlato tantissimo perché ha davvero dei personaggi caratterizzati benissimo come questi personaggi plasmano e si incastrano nella storia subiscono gli eventi sono fallibili ma sono anche forti sono anche è bellissimo è veramente qualcosa di molto molto valido l'ho trovata proprio una lettura molto illuminante per questo ora torno al mood di prima e per questo ora vi ridico che mi sento un po' male a parlarvene in termini così entusiastici però non vi dirò mai leggetelo o non leggetelo questo non lo sentirete a me andate a coscienza però sicuramente è un volume che potrebbe insegnare tantissimo a un sacco di scrittori che leggiamo ora che scrivono fantasy e anche questo cambio di prospettiva secondo me in una storia del genere ovviamente libri scritti da donne ce ne sono tantissime ma una riscrittura da un punto di vista femminile con i personaggi che conoscevamo e magari ne avevamo un'idea di questa portata non l'abbiamo mai visto o almeno non in tanti casi quindi io rimango affascinata e il libro più bello che ho letto fino ad ora sicuramente quest'anno è uno dei libri che rimarrà nel mio cuore e per molti anni perché è veramente bellissimo io mi sa che ho parlato per una quantità di tempo inenarrabile quindi detto questo io vi ringrazio un sacco per essere stati insieme a me se l'avete letto se non l'avete letto se avete intenzione di leggere eccetera fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti così ne discutiamo un po' insieme perché ci sono alcune cose che io voglio approfondire secondo me è un fantasy come dovrebbe essere un fantasy detto questo torniamo alle premesse iniziali io mi sento veramente un po' male a parlarvene in termini così entusiastici però insomma non saprei come altro fare sono una lettrice avete ragione se volete un po' dirmene quattro non so come altro fare detto questo io come sempre vi ringrazio immensamente per aver seguito il video per aver trascorso un po' di tempo insieme a me giù nell'infobox trovate ovviamente tutti i link ai miei social a quelle di affiliazione Amazon ma anche se volete offrirmi un caffè a quello di Ko-fi per sostenere ovviamente il canale e niente io direi che per oggi è tutto anche perché sarà un video eterno e quindi ci vediamo al prossimo video ciao ciao